Per quanto riguarda le malattie del sangue a che punto è la ricerca? La ricerca è sempre più avanti, fa passi da gigante di anno in anno nel campo delle malattie del sangue grazie alla capacità dei gruppi di ricerca di mettere a punto terapie mirate. Quello che oggi abbiamo, a differenza di quello che avevamo vent'anni fa, è che i nuovi farmaci, le nuove terapie sono mirate sulla malattia, sulla lesione genetica responsabile della malattia. Stiamo dividendo le singole malattie intanto sotto malattie ed ognuna ha la sua terapia specifica. Questo però richiede una diagnostica molto accurata e anche dei protocolli di terapia molto più complessi di un tempo. Per fare un esempio pratico, se prima per curare una leucemia mieloide acuta si usava sempre la stessa terapia, sempre gli stessi tre farmaci, oggi per questa malattia ci sono decine di farmaci diversi che devono essere utilizzati a seconda del sottotipo di malattia. Quindi molti passi avanti, maggiore efficacia nei trattamenti ma maggiore complessità. E questo è gestito, grazie a Dio, da gruppi di ricerca, accademici, indipendenti, in collaborazione con l'industria farmaceutica. Quanto incidono le malattie del sangue in Italia? E qual è, a livello di età, il momento in cui c'è una percentuale maggiore di diagnosticarle? Diciamo che nel complesso le malattie del sangue sono delle malattie relativamente rare. intendo dire che altre neoplasie, tumori del polmone, tumori del seno, sono molto più frequenti numericamente. Però le malattie del sangue sono molto diffuse, diffuse in tutte le età. La sua domanda è giusta, non c'è un'età in cui ci sono più malattie del sangue. Ci sono alcuni tipi di leucemia che sono più frequenti nei bambini, altri tipi di leucemia che sono più frequenti negli adulti e negli anziani. Ma in tutte le età della vita ci sono malattie del sangue che possono essere curate con grande successo, con oltre 80-90% di successo nei bambini, grazie a Dio. Ma anche negli anziani, in alcune forme di leucemia, per esempio leucemia acuta premelocitica, sono delle forme che possono essere guarite anche nei pazienti molto anziani, grazie alle terapie nuove che non sono tossiche. Senta, per quanto riguarda i bambini soprattutto, quanto è importante la precocità della diagnosi? Fondamentale, fondamentale la precocità della diagnosi, quindi il pediatra, il ruolo del pediatra, il cosiddetto pediatra di famiglia, il pediatra di riferimento è fondamentale per capire se una manifestazione magari banale invece richiede un accertamento, perché la diagnosi va fatta precocemente ma soprattutto va fatta bene, cioè la diagnosi di queste malattie richiede oggi come oggi dei laboratori dedicati, specializzati, perché non è soltanto fare un emocromo come poteva essere una volta che serve, serve fare tutto un set di analisi cromosomiche, genetiche, biologia molecolare, studiare il cosiddetto fenotipo, cioè le caratteristiche delle cellule leucemiche e tutto questo permette poi di individuare e usare la medicina giusta, il farmaco giusto, mirato per quel tipo di leucemia.